Alla ricerca del luogo dove tenere il suo seminario estivo, di quella metafora territoriale capace di condensare quell'insieme delle qualità italiane che Simbola vuole raccontare, rappresentare e promuovere, quest'anno siamo arrivati a Treia, in provincia di Macerata, nelle Marche, dove ad un sistema manifatturiero che in questi anni ha saputo innovarsi nel segno della sostenibilità e della qualità si può associare un sistema culturale che oltre ai due atenei storici di Camerino e di Macerata può esibire anche manifestazioni di livello nazionale, solo per fare degli esempi come quelle del Macerata Opera Festival di musicultura che si tengono in uno dei teatri all'aperto più suggestivo d'Europa, lo speristerio di Macerata. Così qui è ancora leggibile e abitabile e frequentabile uno dei territori agrari italiani che ha mantenuto di più i suoi caratteri storici grazie a un'agricoltura che in questi anni è cresciuta nel segno della qualità e che ha visto anche crescere un'offerta turistica, agrituristica ed enogastronomica di livello e che è apprezzata sempre di più da visitatori e turisti. Ecco, per tutti questi motivi Treia è la metafora territoriale che quest'anno Simbolo ha scelto, il luogo dove continuare la nostra indagine, la nostra riflessione sul progetto delle qualità italiane e per questo vi aspettiamo qui a Treia. Grazie a tutti.